Buon pomeriggio, è la prima del convegno tre anni sul miglio. Ne rimangono in dodici i forfè per Marx numero 9, su Mike C c'è Sarnataro, su Margherita Model, Roberto Vecchione, Margot Griff Minucci, il più gettonato al totalizzatore. Via la macchina. Alla chiusura c'è lotta per il comando con Matisse Font, ma a largo incombe subito il targato Griff, i cavalli affrontano la piegata, poi Martin Vellange e Freeway, straclassico per la Diego di Minucci, 13,8, e il Daguerra Pid, questa femmina da Daguerra Pid, al comando, al completamento della prima curva. E così Margot Griff ad aprire le danze, i 400 iniziali in 34. Recupera Margherita Model, sposta anche il 12 di Master Bartur e anche il 13 di Mirage. Più pariglia con l'allieva di Minucci al comando, 600 in 46.2, 16.4 di frazione e si limita al Salchi la Margherita, pedinata da Master Bartur. Dietro la Griff, invece, è Matisse Font. Controlla agevolmente la situation, la leader, addirittura 1,3 il mezzo miglio, e cavalli che affrontano il penultimo rettilineo. Non ci sono variazioni. Poi ci pensa Messinger Lux, numero 7, a muovere le acque, anticipato da Master Bartur, 18,8 il chilometro. Margot allunga, insiste, VP con il targato Bartur va a diretto contatto con la Margot. I due prendono vantaggio, frazione in 14.3, 1, 33.1, i tre quarti di miglio, lotta serrata tra i due. Con la corda Margot all'argo, Master Bartur replica ancora bene l'allieva di Minucci che tenta lo stacco. La Margot in vantaggio, si ripropone Master ma controlla, controlla Minucci, Jean-Paul allunga, chiude la partita. No problem, mentre ottimo secondo è Master Bartur e per il terzo, in zona traguardo, probabilmente ancora di dentro, la Margherita. Ma dati minimi di stacchi, attendiamo il giudice d'arrivo. 2,3, 1,169, un cost-to-cost notevole, rifinito molto bene da questa dagherapide elegante. In po' in salchi c'è Jean-Paul Minucci che argina un Master Bartur, un kick-tell con VP decisamente molto molto bene. Margot Griff alla prima.